Il gruppo che si allarga sulla testa. La vestizione della Malia per Gerardo Stali, mille luci ciclismo. La vestizione della Malia per Gerardo Stali. 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 Qua siamo entrati in curva, sono entrato terzo e non mi ricordo la squadra che lanciava la volata al corridore del secondo posto. Quindi complimenti anche a lui. Io ho preso la sua ruota quando è uscito a 200 metri. Io ho aspettato un posto, è uscito a 150 e ce l'ho fatta. Una dedica per questa splendida vittoria? La dedica va di obbligo alla squadra che ha fatto grandissimo lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.